La domanda con cui vorrei collegarmi a quello che mi compagno nel prodotto è che effettivamente quello che a te lo spina l'interviste è realizzato, alcune cose sì e alcune cose no, ma cosa hanno fatto per noi studenti, noi bambini e bambine nel campo scolastico? Abbiamo degli esempi molto importanti di persone che hanno contribuito a migliorare il sistema economico ma anche istituzionale, cose che sono strettamente collegate. Ad esempio abbiamo Jean Delors, che è un economista francese assai importante, che ha contribuito con quello che è il libro bianco. Il libro bianco è un documento che ufficializza un rapporto e che viene appunto all'uso pubblico. Nel suo trattato, nel suo libro, si parla di tre punti fondamentali, che sono la crescita, la competitività e poi abbiamo anche... e abbiamo infine l'occupazione. Allora, per crescita Jean Delors intende una crescita sia economica, che però dipende appunto dall'andamento mondiale dell'economia, ma anche e soprattutto una crescita che invece riguarda quello che è il senso della responsabilità di un individuo e questo si fa appunto grazie all'istituzione scolastica. E questo riguarda anche quello che poi riguarda l'occupazione e la competitività. Infatti, secondo Jean Delors è importante che ci sia meno consumismo all'interno dell'Europa, ma più investimento. Investimento che porterà l'Europa a una competitività più alta. Purtroppo la competitività e l'occupazione in questo momento sono fermi, in quanto appunto la crisi ha bloccato questi due punti. Ma per competitività si intende una competitività costruttiva, affinché si possano raggiungere altri livelli. Infatti bisognerebbe, secondo lui, come già si prevedeva da molti anni, che bisognerebbe soprattutto investire nel campo tecnologico, in cui noi, nati in digitale, siamo più o meno istituti. E poi abbiamo l'occupazione, che è il segno del lavoro, della nostra crescita economica. E purtroppo anche questo fermo a causa della crisi. Però appunto noi dobbiamo raggiungere, grazie anche al miglioramento dell'istruzione, questo traguardo. Inoltre, a proposito di quello che è il libro bianco dell'istituzione scolastica, abbiamo Cresson. Cresson che ha parlato di alcuni punti chiave. Parla di quella che è l'acquisizione delle nuove conoscenze, perciò spingere i giovani ad avere la concezione di imparare e di imparare. Abbiamo poi l'avvicinamento alla scuola di impresa, perciò intendere la scuola come un collegamento, insieme a magari delle aziende o delle multinazionali, creando dei collegamenti di rete affinché i giovani possano appunto avvicinarsi a quello che è il mondo del lavoro. Abbiamo successivamente la lotta contro l'esclusione fondamentale, in quanto noi tutti conosciamo, e in quanto anche la definizione di quello che è l'istituzione scolastica, perciò pensare la scuola come un luogo sicuro, ma soprattutto in cui c'è integrazione tra i giovani. E poi abbiamo la conoscenza delle lingue fondamentali che ritroveremo anche in quelli che sono i trattati di Lisbona. E poi abbiamo gli investimenti chiedevano che la scuola deve investire e deve collaborare insieme a quelle che sono le aziende. Infatti dovrebbero le aziende, l'Europa chiede alle aziende, di aiutare e di formare i nuovi neolaureati affinché appunto ci sia una maggior crescita. Abbiamo anche poi i trattati di Lisbona che riassumono un po' quelle che sono le richieste degli europei nei confronti degli studenti e delle studentesse. E poi però l'Europa ha fatto anche quella che è la strategia degli studenti, che è stata varata nel 2009 e consiste in un insieme di opzioni che l'Europa ha proposto per noi studenti. E consiste ad esempio nell'Erasmus, Erasmus Plus, come dicevano prima, o nello Sve. Ad esempio l'Erasmus Plus e l'Erasmus sono due modi, due possibilità con cui i giovani possono viaggiare, possono avere la possibilità, dando appunto loro la possibilità di poter scambiare appunto le proprie culture, potersi confrontare eppure anche di poter imparare e di poter lavorare. E questo si fa solitamente all'università. Inoltre c'è anche lo Sve, che è il servizio di volontariato europeo, in cui ad esempio dei giovani che magari hanno abbandonato la scuola o giovani volontari vanno magari in confine o presso un'azienda dove appunto fanno del volontariato e dove ricevono l'U-Pass, che viene ricevuto anche solitamente, se non sbaglio, anche nell'Erasmus. E l'U-Pass è appunto un certificato che certifica quello che hanno fatto in quest'altro tempo.